Buon pomeriggio a tutti, oggi parliamo di Pisa, c'è anche l'unghia azzurra come il braccialetto, non ci avevo fatto caso, ma si parla di Pisa perché si è giocato un turno infrasettimanale molto complicato, sia per quanto riguarda il meteo perché a Pisa ha piovuto, sia per quanto riguarda la partita, perché comunque era la prima partita del Pisa in casa, dato che la prima con le punze è giocata, però è stata arrivata la prima sconfitta, c'è da dire questo, che pioveva, che il Pisa aveva 9 infortunati fuori, ha giocato l'ultimo acquisto Mlacar che è arrivato peraltro giovedì passato, quindi è una settimana che c'è, deve anche un attimino adattarsi e prendere le misure al nostro campionato, anche se ha giocato nella Fiorentina Primavera, e quindi diciamo che è stata una sconfitta, però analizziamola. Allora, abbiamo giocato con il 4-2-3-1, chiaramente io ricordo per chi non lo sapesse che Matteo Tramoni, che era andato in gol la prima giornata contro la Samp, si deve operare al crociato e credo che si operi la settimana prossima, quindi fino almeno a Natale, alla sosta di Natale non lo rivedremo in campo. E quindi in questo ultimo giorno di mercato il Pisa cercherà di andare a coprire, comprando nuovi giocatori nelle parti dove c'è carenza. Si parlava anche di Baez, del Fresinone, che per me male non è. Allora, ma veniamo a noi. La formazione del Pisa, come ben Nicola se importa, Tommaso Barbieri, Canestrali, Le Verbe, Beruatto, Veloso, Marin e più una linea tutta di nuova formata da Arena, Valotti, D'Alessandro e Mlacar. Allora, c'è da dire questo. Eravamo in 10. Fallo di Le Verbe. Abbiamo fatto 10 contro 11. Però abbiamo preso il gol dal Parma, ma non ci siamo arresi. Anzi, abbiamo, ci siamo rimboccati le maniche e paradossalmente, detto anche dal cronista, dal telecronista, il Pisa in 10 giocava meglio che in 11. Perché comunque è stato un Pisa propositivo, un Pisa che è andato avanti, che ci ha provato, che si è portato tante volte in area del Parma. Fino con un rigore concesso a Valotti per un fallo al limite dell'area, fare 1-1. Rigore che ci ha fatto tremare perché intuito dal portiere. Però il risultato era sull'1-1 fino praticamente alla fine. Quindi per me sarebbe stato il risultato più giusto. Perché comunque sia il Pisa se l'è giocata. Fra l'altro nel Parma era stato espulso anche Coulibaly per somma di gialli. Quindi eravamo 10 contro 10. E ce la siamo giocata benissimo. Perché è vero che abbiamo perso. Però è vero che io ho visto un gioco, ho visto la grinta. Eppure avendo un sacco di calciatori fuori per infortunio. Perché veramente avevamo fuori per infortunio tantissimi. Fra cui mi viene in mente Torre Grossa, mi viene in mente Touré, mi viene in mente Moreo. Quindi insomma, per dirne, ne ho detti tre a caso. Diciamo che siamo riusciti a prendere, cioè a giocarcela, anche se abbiamo perso 2-1. Però sul piano di gioco si è visto. Cioè non è stato un Pisa che dice vabbè, perdo, mi rassegno. No, è un Pisa che comunque ha spinto sempre conquistandosi 1-1 su rigore. Cosa dire? Spero. Per la prossima, dove giochiamo a Modena, di avere almeno qualcuno degli assenti. Spero che ci vanno i giorni interessanti del mercato, si riesca a prendere qualcuno e intanto almeno a completare tutti i reparti. E poi piano piano che recuperiamo tutti i giocatori, allora li avremo la scuola perfetta. Detto questo, io vi saluto. La prestazione per me è buona, quindi da sei e mezzo, nonostante la sconfitta. Anche Aquilani ha saputo allenare, ha fatto dei buoni cambi, appunto nonostante la panchina e il Pisa che è in Pellegrinaggio a Montenero. Detto questo, io vi saluto, vi ricordo di seguirmi sul canale, attivare la campanella e lasciare un commento. Ciao ciao!